Musica Musica Più di 300 persone, senza ancora un nome, morte sulle coste italiane di Lampedusa. Erano in cerca di libertà. È dedicata loro e sono loro protagoniste della manifestazione muta, anzi ammutolita dal cordoglio per quei morti che cercavano la vita, qui da noi, in Europa. La tragedia di Lampedusa si aggiunge a decine di altre, una somma spaventosa che si registra proprio nel Mediterraneo. Cigele e Cisleville, unite nel segno del cordoglio, solidarietà, sono raccolte davanti alla prefettura di Prato per manifestare come fanno oggi molte persone in altrettante città italiane. Il mondo del lavoro si mobilita, testimoniando la volontà di soluzioni concrete sul tema degli sbarchi, che realizzino quel bene comune negato dalla globalizzazione dei mercati e dalla mercificazione delle persone. La mobilitazione nazionale per portare avanti le nostre proposte, ma non credo che siano solo quelle del sindacato, credo che ormai in Italia si stia sviluppando una coscienza su questo. Quindi principalmente il nostro obiettivo è la creazione di corridoi umanitari dalle zone di guerra, dalle zone dove ci sono dei problemi del mondo, per portare in Europa questi profughi, senza fargli fare questo viaggio in mare, che poi alla fine è pericoloso ovviamente, molto pericoloso, in mano alle mafie ci costa anche a noi come paese, perché noi come paese dobbiamo poi alla fine garantire la sicurezza di tutti. E quindi secondo noi l'ipotesi migliore, la proposta migliore è quella della creazione di corridoi umanitari. Anche lo stesso Letta, che parlerà tra qualche giorno con l'Unione Europea, dirà che è un problema dell'Europa, non dell'Italia. Sì, però questo non deve essere un'alibia per l'Italia. Cioè l'Italia è un grande paese, è un paese in questo momento di frontiera, si deve prendere le sue responsabilità, quindi anche il paese, secondo me, anche se l'Europa non starà in disparte, deve prendere delle decisioni. Parlare dello Jussoli, anche oggi, sottolineare questo, il diritto di cittadinanza, non è sbagliato? No, non è assolutamente sbagliato. Noi pensiamo sia un dovere dare un futuro a queste persone che nascono in Italia, vivono in Italia, parlano italiano e purtroppo per un motivo burocratico non riescono a espletare il loro diritto di cittadinanza giusto, a nostro avviso. Noi pensiamo che la regolarizzazione degli immigrati sia una cosa importante per poter far sì che possa emergere il lavoro nero e poi bisogna sfatare anche molti miti perché molti dicono che gli immigrati costano. I immigrati regolari, il saldo tra servizi presi e contributi versati è positivo per circa 1 miliardo e 700 mila euro. Penso sia un dovere mettere insieme anche ai controlli che devono essere giusti e rigorosi una soluzione definitiva al problema dell'immigrazione, degli stracomunitari e far sì che questo problema diventa una risorsa. Inclusione anziché esclusione, questo è un punto fermo? Assolutamente, purtroppo politiche inclusive nel nostro paese se ne vedono poche e anche gli ultimi fatti, le ultime tragedie avvenute a Lampedusa ci fanno capire come talvolta si mettano in atto delle politiche che invece di accogliere tendono a mandare indietro, a non includere e a non ospitare. Devo però precisare che gli abitanti di quest'isola hanno invece dimostrato non soltanto in quest'ultima occasione ma negli ultimi anni un grande senso di solidarietà ed hanno accolto come potevano spesso nel silenzio donne, uomini, bambini che venivano nel nostro paese affrontando questi viaggi inumani e che spesso hanno trovato la morte nel nostro mare. Nessuno sa più cosa dire. Si resta in silenzio, attoniti. In silenzio si accendono le torce. In silenzio si riflette su quanto è accaduto davanti alle coste di Lampedusa, davanti all'Italia, davanti a noi italiani. Popolo di migranti antichi, ma non troppo. Oltre 360 fra uomini, donne e bambini hanno trovato la morte nel viaggio verso la speranza. Vite spezzate da leggi ingiuste che salvaguardano la politica dell'indifferenza a scapito della difesa dei diritti e della dignità delle persone. Fiaccole accese dunque e ho lungo silenzio davanti ai passanti, per niente incuriositi, immersi nelle luci delle vetrine, e delle proprie sicurezze. Dopo quello che abbiamo vissuto la scorsa settimana, la giornata di lutto nazionale, che è stata la giornata che ha dato il là anche a questa iniziativa, abbiamo ripreso l'iniziativa oggi, appunto una giornata nazionale. CGL e Cisleville hanno deciso su tutto il territorio nazionale di mobilitarsi per ricordare quello che è avvenuto a Lampedusa, insomma a pochi chilometri nel nostro territorio sono morte centinaia di persone. Credo che lì bisogna intervenire, cioè la giornata di oggi rappresenta proprio il fatto che noi non vogliamo lasciare il lutto nazionale come un pensiero di memoria e basta, ma come un pensiero che si mobilita di ventazione e anche punti di iniziativa precisi, in cui si chiede anche la riforma della legge Bossi Fini, che è molto importante. Ci sono anche altre proposte però che il sindacato muove? Sì, noi chiediamo rispetto ai rifugiati politici, all'asilo, anche dei canali umanitari, perché sono persone che scappano da scenari di guerra, quindi da situazioni difficilissime. Non scappano per cercare un mondo migliore, che già quella sarebbe l'obiettivo principale, ma ormai devono scappare da una situazione che si sta via via incancrenendo, perché sappiamo che la primavera araba ormai si è trasformata in scenari di guerra un po' in tutti i paesi, dall'Egitto, alla Siria, alla Libia e quindi ormai questi profughi che scappano cercano davvero di trovare una soluzione alla loro condizione disastrata, disagiata. La gente sta scappando da quei paesi non per migliorare il loro stato sociale, la loro vita, il loro stato economico, ma perché rischiano la vita. E rispetto a questo il nostro paese, che è una democrazia matura ed evoluta, ha il dovere di intervenire, di intervenire seriamente. Non può essere tutto sulle nostre spalle, la comunità può fare il loro compito, ma è certo che la politica dell'accoglienza deve diventare una cosa importante all'interno della nostra cultura. L'Europa deve fare di più, deve produrre questi canali umanitari, questi canali che permettono a queste persone con status di rifugiate di trovare la possibilità di scappare e trovare salvezza da queste situazioni. E poi naturalmente in Italia abbiamo uno specifico, l'Europa ce l'ha chiesto, la Bossi Fini è incivile, il reato di clandestinità che è passato in commissione, vedremo poi la discussione in Parlamento cosa produrrà, è davvero un reato per una condizione, la condizione dell'immigrato. Bisogna rovesciare questo paradigma, queste persone arrivano qui non certo perché vogliono commettere dei reati, ma naturalmente perché sono degli immigrati e non per questo possano essere considerati clandestini. Grazie per la visione!